La protesta delle regioni si era già fatta sentire nelle scorse settimane, con principale capo respiratorio il commissario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri, che aveva dovuto a suo malgrado giustificare i ritardi nella fornitura delle dosi patuite del vaccino Pfizer. Siamo di fronte ad una distribuzione complessa, aveva ammesso, che riguarda molti paesi d'Europa. Poi, dopo la falsa partenza, la campagna vaccinale aveva accelerato, iludendo che il percorso fosse meno irto. Oggi però i numeri sono nuovamente preoccupanti, con l'azienda farmaceutica che consegnerà all'incirca 398.000 dosi di fronte alle 563.000 previste, con il commissario Arcuri costretto ad imporre una redistribuzione per coprire le carenze laddove si verificassero. Sì, perché il problema pare si presenterà in maniera non omogenea, colpendo maggiormente alcune regioni come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che riceveranno circa 25.000 dosi in meno. Un rallentamento che potrebbe non rivelarsi fatale, se come ha sicurato Pfizer si limiterà a questa settimana. Una promessa che però non fa dormire sogni tranquilli, soprattutto in alcuni centri di somministrazione Lombardi, che paventano che il vero problema potrebbe essere legato ad una variazione di destinazione dei vaccini in altri paesi. In Piemonte e in Liguria la percentuale d'Italia supera l'11%, all'incirca un meno 6.000 dosi. A farne le spese saranno particolarmente la Città della Salute e la SL di Torino. Al momento però non dovrebbero mancare le scorte per il Grichiamo, per far fronte alla somministrazione delle prime dosi. Ma se ci saranno altri tagli, l'intera campagna vaccinale andrà in tilt. La regione inoltre non intenderebbe prestarsi alle valutazioni settimanali del commissario Arcuri, ma vorrebbe in qualche modo autogestirsi. In Liguria i tagli colpioranno soprattutto il Salbonese. Il presidente Totti, pur assicurando la prosecuzione grazie alle scorte del percorso vaccinale, ha definito poco seria la decisione dell'azienda farmaceutica, soprattutto riguardo ai ritardi nella comunicazione. Chiediamo a Pfizer di rispettare i patti con serietà e rigore. Ha rincavato la dose il ministro per la Salute, Roberto Speranza. Intanto, in una lettera rinviata ai responsabili, il commissario Arcuri ha sottolineato il pericolo inimmaginabile di una sospensione e di un ritardo nella somministrazione delle seconde dosi, lamentando la mancata spiegazione circa ai criteri adottati. Parte della popolazione italiana ha scritto a Curi, nei cui confronti si sta effettuando questa prima fase di vaccinazioni, è costituita dalle fasce più deboli, come gli ultra-80enni, di regola accompagnati da una o più patologie, per cui un ritardo o una sospensione nella somministrazione delle dosi potrebbe rivelarsi per loro fatale.